Per Giancarlo De Sisti, meglio conosciuto come Picchio e romanesco vuol dire trottola, il torneo Foschi al quale ha preso parte la formazione giovanissimi della Roma con l'Aquila Calcio non è stata la prima volta in città, essendoci passato da militare. Ricordi belli, quelli dell'ex giocatore della Roma e allenatore di calcio, una bella giornata di sport condita anche dalla nostalgia dell'Aquila com'era. Sono andato un po' in giro per l'Aquila, ho visto la realtà, ahimè ancora nel centro storico, ancora un po' troppo ritardata. So per amici aquilani che mi hanno riferito sempre della beltà, della bontà di tutto ciò che rappresentava almeno e quantomeno il centro storico, adesso vederlo ancora un po' sofferente. Peccato, però tutto il resto è bello, come il senso da dare a questa partita, diciamo che sarà utile a chi ne ha bisogno. Tutti hanno potuto apprezzare lo stadio Gran Sasso, concordi nel dire che è un peccato avere l'Aquila in Serie D. Ha fascinato anche il tecnico dei giovanissimi della Roma, l'Aquila Calcio che vive oggi uno dei momenti più bui, che non conosce il suo destino. Però quello che ti lascia una passeggiata della mattina in questi posti, dove purtroppo siete stati un po' sfortunati, penso se lo porteranno dietro per sempre, più della partita. I partiti ne faranno tante cose così importanti anche a livello culturale, sono poche le possibilità che si hanno per effettuarle. È bello, bello. La prima cosa che ho detto, il Manto Erboso, purtroppo l'anno scorso ho perso la finale del titolo italiano al Mamuzzi. È uguale, stesso campo, stesso Manto Erboso. La cornice non è da D come Domodossola, ma è da B come Bologna, uno stadio del genere. La cornice non è da Bologna.